Grave incidente stradale per Christian Milone, famoso chef stellato di Pinerolo. L'incidente nella giornata di lunedì sulla provinciale 129 di Pinerolo, quando Milone, in sella alla sua bici, si è scontrato contro un'auto. D'urgenza è stato ricoverato il CTO di Torino, dove in coma farmacologico si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. La prognosi è riservata. Sull'incidente indagano i carabinieri che stanno cercando di stabilire quanto accaduto al noto chef Christian Milone, 43 anni, a una stella Michelin e alla trattoria Zappatori di Pinerolo dal 2006. Con un passato da ciclista professionista nel 2002 ha partecipato anche al Giro d'Italia. viene da una famiglia di ristoratori e in cucina ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti internazionali.